La presentazione al castello è andata più che bene, visto il successo di pubblico? Sì, non ce l'aspettavamo sinceramente, è arrivata moltissima gente. La sala è piena di spettatori che vengono da tutti i paesi della provincia di Agrigento. Sono anche i genitori degli allievi dell'Accademia e molta gente che comunque, conoscendo la professionalità del regista e nonché insegnante della nostra Accademia, Silvio Licata, ha voluto gustarsi questo bel momento. Quando si fa un cortometraggio del genere, il linguaggio filmico non è un testo che si fa da soli, come può essere la poesia, la fotografia o quant'altro. Il film si fa in gruppo, in equip. Dietro questo lavoro ci sono tante persone che hanno dedicato tantissimo del loro tempo per lavorare con grande passione. La regia è molto importante perché coordinare un gruppo consistente, fatto di persone di carattere, non è facile. Insomma, però alla fine si ha una gioia di gruppo notevole. 15 giorni di riprese, che fatica è stata a recitare in questo corto? È stata un'esperienza bellissima, ma faticosa, molto faticosa perché stavamo, diciamo, dalle 3 e mezzo del pomeriggio fino all'1 alle 2 di notte in piedi. Perché diciamo che il linguaggio cinematografico ha delle dinamiche anche materialmente diverse da quelle del teatro. Quindi bisogna stare ore, fermi, ripetere la battuta. Ma veramente è un'esperienza bellissima, che ripeterei subito.